La musica austriaca da Mozart agli Strauss, il fervore culturale che accompagnò la disgregazione politica dell'impero austro-ungarico, il primo conflitto mondiale, a cento anni dall'entrata in guerra dell'Italia nella dimensione europea, ma anche in quella vicina dell'Umbria, una delle regioni più ricche d'Italia per storia e cultura, sono solo alcune delle molteplici prospettive culturali che aniremeranno la 48esima edizione del Festival delle Nazioni nei 15 concerti ed eventi del cartellone principale in programma dal 25 agosto al 5 settembre a Città di Castello. Sotto il segno dell'Austria e la nazione ospite del 2015, il festival conferma l'attenzione per il repertorio, ma anche per la più stringente contemporaneità con nuove produzioni, prime esecuzioni assolute e con la presenza di giovani talenti accanto agli artisti di prestigio internazionale. E se da sempre il festival si distingue nel dialogo tra musica e arte, programmando i concerti nei luoghi artistici più affascinanti del territorio, nel 2015 questo dialogo si farà ancora più intenso con l'omaggio all'arte di Alberto Burri, nel centenario dalla nascita da parte di due grandi maestri dei nostri giorni, Salvatore Sciarrino e Virgilio Sieni. Il nostro scopo è proporre buona musica, ma cerchiamo anche di collegare la proposta artistica a un motivo di attualità per renderla più viva, ha dichiarato il presidente Giuliano Giubilei. Per questo, ad esempio, in occasione dei 150 anni dell'Unità, abbiamo dedicato un'edizione speciale all'Italia e nel 2013 abbiamo intestato il festival, non a un solo paese, ma a tutta l'Europa. Per l'eduzione 2015 la scelta è caduta sull'Austria, un paese ricco di storia e con un patrimonio musicale straordinario. Ci concentreremo sul periodo a cavallo tra 800 e 900, ha dichiarato il direttore artistico Aldo Sisillo, caratterizzato da una fragile equilibrio pieno di tensioni che preluda il disfacimento dell'Europa ottocentesca. Vienna, più delle altre capitali europee, è un grande laboratorio culturale in cui i forti ideali di progresso scientifico e industriale coesistono con un sentimento di crisi che si concretizzerà nel giro di pochi anni con la disintegrazione dell'impero austro-ungarico.